Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata ho costruito quest'albero cavo da cui ho fatto uscire un tunnel che arriva dalla nostra ferrovia. Ho visto nei commenti che questa costruzione vi è piaciuta parecchio perché l'avete trovata originale e vi ringrazio davvero un sacco. Ma oggi ragazzi dobbiamo concentrarci su un'altra cosa perché questa settimana finalmente è uscito il primo snapshot della 1.16 che come ben sapete è un aggiornamento dedicato al Nether. Eh sì ragazzi visto l'importanza di questo aggiornamento ho deciso di installare subito nel mio mondo la prima snapshot della 1.16. Mi raccomando ragazzi se anche voi volete fare questo genere di esperimenti prima di tutto fate un backup del mondo. Minecraft stesso vi suggerisce di farlo quando caricate un salvataggio che avete con una versione precedente a quella che state usando. Oggi ragazzi andremo ad esplorare il nuovo Nether e oltre a nuovi blocchi ne sono stati aggiunti circa 50 nel Nether adesso ci sono dei biomi. Dato che questa è la primissima snapshot nelle prossime verranno aggiunte altre cose nuovi biomi probabilmente nuovi blocchi e anche dei mob. Per poter però esplorare le nuove zone del Nether ho preferito cancellare tutti i vecchi chunk perché come sapete per poter generarne di nuovi bisogna spostarsi parecchio e il Nether non è un luogo molto ospitale. Però attenzione questa settimana oltre ad andare a vedere tutte le novità di questa versione ho anche studiato un po' il modo in cui viene generato il Nether e prima dell'uscita della 1.16 andremo a ripristinare solamente alcuni chunk del vecchio Nether. Attenzione non andrò a copiare le strutture andrò a utilizzare solamente alcuni chunk vale a dire quello dove ho la torre che sta sopra il tetto del Nether che mi dà anche accesso a questo luogo e la farm di oro. Per quanto riguarda invece la farm di blades e i tunnel che vanno ai vari portali preferirei ricostruire tutto quanto con uno stile diverso e ammodernare tutto quindi fare anche un hub. Quindi ragazzi state tranquilli perché ciò che avete visto fino ad oggi nel Nether non verrà perso almeno le cose principali. Dai allora non ci resta che partire andiamo all'interno del portale e iniziamo la nostra nuova esplorazione nel Nether. Devo spiegarvi un po' di cose ragazzi. Allora eccoci qua questa è la nuova stanza dove ho messo il portale. Come vedete però qua intorno non c'è nulla è tutta quanta Netherrack e quindi ho dovuto scavare un po' questo tunnel per poter uscire all'aperto. Già vediamo delle novità ragazzi ci sono oltre alle particelle del portale altre particelle di colore rosso che ci sono nell'aria. Ragazzi andiamo nel nuovo Nether. Eccoci qua ragazzi. Boom! Ma io quando sono arrivato qua ho scoperto una cosa assurda ragazzi. Non so se ve ne siete accorti ma io che frequento questa zona oramai da otto anni mi sono accorto che la morfologia del terreno è identica a quella del precedente Nether. Guardate qui nella precedente versione c'è il tunnel che mi porta verso Pig Island e qui intorno tutto è nella stessa identica posizione. Quello che hanno cambiato alla Mojang sono i blocchi e quindi i biomi. Quando sono uscito qua ho detto ma io questo posto l'ho già visto. Io so già com'è fatto perché vedete qua normalmente scendevamo, andavamo da quella parte, salivamo di lì per raggiungere poi la fortezza del Nether che in teoria dovrebbe esserci ancora. Però ho letto che ci sono problemi di generazione quindi qua dentro ragazzi le cose cambieranno. Ma ora ragazzi andiamo avanti perché qua già abbiamo delle novità pazzesche. Ci sono queste che sono delle specie di vines del Nether però sono rosse ragazzi crescono sotto i blocchi e c'è questo bioma che adesso è piccolino ma ce ne sono di molto più grandi e dopo andiamo a vedere che è una foresta. Ragazzi è una foresta pazzesca, è bellissima. Ci sono questi funghi che possiamo raccogliere per far crescere questi alberi con il bone meal e c'è questo terreno che ci serve appunto per far crescere tutto quanto. E poi ci sono questi altri funghi che fanno crescere un altro tipo di albero. Dato che questa non è la versione definitiva del Nether probabilmente andrò di nuovo a cancellarlo per poi aggiungere anche i chunk vecchi prima dell'uscita della 1.16. Quindi oggi andremo solo a fare un'esplorazione e a prendere un po' di blocchi. Non andremo a costruire nulla all'interno perché appunto abbiamo poi questo problema di dover cancellare nuovamente le cose. Allora io vorrei andare anche a prendere queste cose però prima voglio girare un pochino e soprattutto farvi vedere anche questi altri mob. Guardate ragazzi sono dei maiali o meglio dei cinghiali non lo so una specie di incrocio per il momento non sono ostili e anche se li attacchiamo come vedete non ci fanno nulla praticamente scappano e basta e droppano al momento solamente carne marcia e non cotta ovviamente. Quindi sono abbastanza inutili ma questi poi saranno gli animali domestici tra virgolette dei nuovi abitanti del Nether che devono ancora aggiungere. Guardate qui c'è un'altra di queste foreste molto più grande di quella che abbiamo visto prima. Quindi andiamo a vedere. Io non credo che avremo molte difficoltà perché spawnano gli stessi mob che c'erano prima quindi potremmo incontrare qualche ghast ma tutto sommato ragazzi sono gestibili. Allora possiamo prendere questa che sono i crimson root praticamente delle radici bellissime per fare decorazioni quindi vado a prenderle e ovviamente dobbiamo prendere anche questi funghi per far crescere nell'overworld poi questi bellissimi alberi. Faremo sicuramente delle cose a tema. Poi qua dentro vi faccio vedere abbiamo ragazzi guardate un altro blocco luminoso che è praticamente un fungo. Adesso io lo vado a raccogliere e si chiama shroom light e andiamo a raccogliere anche questo legno che non è un vero e proprio legno perché non brucia e lo possiamo utilizzare per fare delle costruzioni. È bellissimo. Ha questa texture tra l'altro animata. Queste vene color rosso che sono stupende. Quindi io vado già a prendere un po' di cose eh. Assolutamente. Mentre questi blocchi qua credo che sono quelli che c'erano già nelle versioni precedenti. I netherworld block. E poi dobbiamo andare anche a prendere questo blocco qui. Credo con silk touch ce lo portiamo già a casa. Sì. Procediamo un attimino e andiamo ad esplorare. È bellissimo questo bioma. Tra l'altro le particelle che hanno aggiunto secondo me sono un tocco di classe eh. Queste particelle che sembrano lapilli di lava. Quindi danno una sensazione di calore all'interno di questo di questo ambiente. Assolutamente. Guardate che roba. No ma è bellissimo ragazzi. Adesso finalmente il nether sta diventando interessante. E qui potremmo davvero davvero costruire qualcosa. Ah qui potevo portarmi le litra per riuscire ad andare da quella parte. In realtà non le ho portate. Ma ho le ender pearl. Quindi utilizziamo quelle. Perfetto. Potevo portarmi le litra che volavamo un pochino all'interno del nether. E mannaggia. Tech ti dimentichi le cose. Allora prendiamo intanto questi. Io vorrei trovare gli altri due biomi che sono stati aggiunti. Ossia un'altra foresta ma di un altro colore che è praticamente una specie di verde azzurro verde acqua. E un altro bioma che è una specie di landa desolata con dei fuochi di colore blu. Perché quella è un'altra aggiunta a questa nuova versione. Il fuoco blu ragazzi. Che a quanto pare ma non so se si tratta di un bug. Io spero di no. Non brucia gli item. Però ci fa il doppio del danno se finiamo dentro con il nostro personaggio. Vediamo se nelle prossime snapshot questa cosa verrà corretta. Io spero di no perché utilizzare quel fuoco significa fare delle farm davvero spettacolari e comodissime. Potete fare danno ai mob ma non perdere tutti i drop che finiscono nel fuoco. Quindi bellissimo. Bellissimo davvero ragazzi. E poi all'interno di questi biomi è stato aggiunto un nuovo materiale. Che possiamo utilizzare per costruirci un'armatura e delle armi migliori del diamante. Wow ragazzi. Wow. Veramente spettacolare. E adesso? E adesso qui sono guai. Perché io posso andare dall'altra parte. Però vediamo. Lasciamo così. Io vado di Ahaha. Ok. Di Ender Pearl. Quindi non ne ho portate tantissime. Potete portarmi un po' di cose in più tech? Ok. Va bene. Ah. Ecco qua un nuovo blocco. Allora mettiamo una torcia così ci vedete bene. Eccolo qua. Guardate. Questo è una specie di Soul Sand che però si chiama Soul Soil. Quindi è un terriccio. Praticamente sempre delle anime simile a la Soul Sand ma con funzioni diverse. E ragazzi guardate qua. Siamo nel nuovo bioma. Il fuoco blu. Ecco ci sono ancora dei glitch. Quando passiamo da un bioma all'altro vedete cambia il colore dell'atmosfera che è bellissimo però cambia in modo repentino vedete. Secondo me qua la Mojang dovrà fare delle correzioni e andare a sistemare quindi facendo una transizione più soffice, più smooth come si dice. Ok saliamo di qua e andiamo a vedere cosa c'è perché ragazzi anche questo bioma è veramente uno spettacolo. Ecco qua il nostro fuoco blu. Vi faccio vedere che non brucia nulla. Guardate io metto dentro questa che è il mio no il mio zaino magari no. Questo Crimson Stem vedete è dentro nel fuoco ma se vado qua lo recupero. E ragazzi siamo arrivati qua nel bioma della foresta con quest'altro colore. Guardate è fantastica. È semplicemente fantastica. No no vabbè ma guardate che roba. Anche questo questo legno qua è stupendo ragazzi. Prendiamo prendiamo perché voglio assolutamente avere un po' di blocchi di questo tipo tanto appunto qua anche se distruggiamo poi potremmo rigenerare tutto una volta che avremo la versione finale. Wow mi piace un sacco. Grazie Mojang di questo aggiornamento. Ah ecco ci sono anche queste che sono delle altre erbe tipo quella anzi delle radici tipo quella che vi ho fatto vedere prima rossa ma di un altro colore quindi anche queste bellissime. Andiamo avanti ad esplorare qua. Vediamo un po' se c'è ancora qualcosa di qua forse. Adesso c'è la soul sand che mi rallenta. Ok. Sì queste transizioni vanno assolutamente corrette. Ah ma io perché ci passo dentro? Caspita guardate guardate il danno. Ma pensa te Tecma. Cioè va bene che sei bardato tutto quello che vuoi però potresti anche stare un pochino più attento eh. Per il momento non ho incontrato nemmeno nemmeno tanti mob. Pensavo molto peggio. Io vorrei andare là sopra però ho paura lancia. Ma sì dai lanciamo. Ragazzi se poi cadiamo nella lava. Wow guardate guardate ci sono vari livelli. No no ma vabbè vabbè ragazzi. Vabbè ma guardate che spettacolo. Qua c'è l'incrocio dei due biomi praticamente. Quello con questa foresta e qui c'è quella rossa. No bellissimo bellissimo. Ah sì come mi piace andare in esplorazione. Ok. Ah ecco. Allora qui abbiamo la foresta e qui abbiamo la presenza oltre di un sacco di enderman ma questo credo che sia un bug. Qui abbiamo anche i blocchi di osso. Sì ragazzi i blocchi di osso che si trovavano in modo molto molto difficoltoso nell'overworld. Noi non li abbiamo mai trovati. Però qui sembra molto più semplice trovarli in questi biomi particolari del nether. Tu cosa vuoi qua? Cioè cosa ci fai qua? Vai via che io devo esplorare oggi. Ok. Non ho ancora trovato dei ghast fortunatamente ma voglio andare qui dentro. E intanto altro nuovo blocco. Sì un altro nuovo blocco ragazzi. Questo è il blocco del basalto ragazzi. Questo è bellissimo perché assomiglia tantissimo alla cobblestone ma è più scuro. Vedete sopra è più scuro. E possiamo utilizzarlo per le costruzioni. Ha una texture diversa sui lati ma sopra è proprio come la cobblestone. Tra l'altro lo troviamo in queste formazioni che sono delle specie di colonne delle stalattiti e stalagmiti che si sono unite e sono davvero bellissime. Sono davvero bellissime. E qua ragazzi entriamo in quest'altra foresta. Questa è un pochino più grande della precedente. Vedete? Bellissimo. Qua si scende ragazzi. Potrei utilizzare anche qua le enderpearl. Ok perfetto. E qua c'è un lago di lava. Ecco il bioma vecchio del nether è rimasto. Quindi c'è ancora una zona che assomiglia al vecchio nether. Quindi non è stato tolto del tutto. Rimane ancora come il precedente. Identico praticamente. Non c'è nulla di nuovo. Adesso andiamo da questa parte. Dovrebbe essere questo. Vedete che è esattamente uguale a quello che c'era nelle vecchie versioni. E qua ci sono una marea di laghi di lava. Fantastico. Fantastico. Ora io vorrei tornare indietro e andare dall'altra parte per vedere se esiste ancora la fortezza vecchia del nether. Ed eccomi qua. Sono tornato indietro ma ne ho approfittato anche per ritornare a casa e prendere l'elytra così ci facciamo un bel volo. Ho preso altre enderpearl e della tnt che mi servirà per trovare più facilmente il nuovo materiale che vi dicevo con il quale si possono fare armature e attrezzi davvero davvero potenti. molto meglio del diamante ma è un materiale molto raro e dobbiamo scavare nel nether ed è resistente alla tnt quindi utilizzando la tnt potremmo facilitare il nostro lavoro. Adesso andiamo a mettere l'elytra prendiamo anche i razzetti nella seconda mano e facciamo un voletto ragazzi. Allora io so che da questa parte c'è la la fortezza perché io mi ricordo a memoria praticamente tutto il percorso. Poi dobbiamo salire da questa parte e andare di qua. Ragazzi lo so sembra strano ma so tutto a memoria. Planiamo qua con l'elytra così non ci facciamo male e qua dietro. Ahia ma perché devo prendere sempre il fuoco oggi? Ok da questa parte c'è la fortezza però lì non c'era l'altra volta ragazzi quindi mi sa che sì la fortezza c'è ancora nello stesso punto ma viene rigenerata. A parte che c'è quel bug che vi dicevo e devo anche essere sincero la fortezza io l'ho generata con una versione vecchissima di minecraft. Caspita dentro la lava pure. Basta bruciare. Ok grazie. Qua c'è il portale che mi porta le nuove terre nel vecchio mondo e di qua ragazzi la fortezza. È un trip viaggiare nel nether praticamente ripulito da tutte le strutture e le cose che ho fatto ma riconoscerlo perfettamente. Vediamo un po'. Sì c'è la fortezza però qui c'è un uuuuh. Proviamo a andare da questa parte. Vediamo cosa succede. Allora io mi butto qua e andiamo a vedere questa fortezza. Eh sì è completamente diversa ragazzi. È completamente diversa la fortezza. Non era così. Assolutamente non era così. Si sviluppa in modo diverso. Ma nello stesso punto. Aia ma cosa cavolo sta succedendo oggi? Perché prendo fuoco da solo? Quello che voglio fare adesso. Ah ci sono anche questi. Ok. È andare a scavare per trovare il nuovo materiale. Però dobbiamo andare in basso ragazzi perché dobbiamo scendere davvero tantissimo. Non possiamo restare a questa altezza. Oh oh oh. Dai ragazzi vado a vedere se trovo qualcosa. Intanto si scava. Fa davvero strano ragazzi andare a scavare nel nether. Tra l'altro con questo piccone qua ecco bisogna stare attentissimi alla lava perché come sapete e come so anche benissimo io nel nether la lava viaggia più velocemente quindi rischiate la vita. Ma fa strano andare a minare dentro il nether perché normalmente si stava in superficie si recuperava il quartz e basta. Tra l'altro questo piccone praticamente distrugge come una specie di trivella tutto quanto quindi è molto comodo. Adesso io sono sceso parecchio in basso nella speranza appunto di trovare questo nuovo minerale. Vediamo un po' se siamo fortunati e soprattutto evitiamo di finire nella lava e di morirci. Oh finalmente dopo aver scavato un bel po' veramente tanto ragazzi ho trovato la nederite o meglio il blocco con cui facciamo la nederite che è molto duro vedete con questo piccone va bene ma ci vuole un pochino a romperlo che si chiama guardate quanto ho scavato l'Acent Debris. In pratica è una sorta di legno fossile ragazzi quindi qualcosa di davvero molto molto raro. A questo punto qua visto che a questa altezza che siamo abbastanza in basso intorno ai 13 blocchi possiamo anche piazzare un po' di TNT per vedere se ne troviamo dell'altro. Guardate ho fatto un sacco di scavi da questa parte sono andato qua sotto qua sono andato di lì ne ho fatto davvero tanto di scavo per riuscire a trovare quei due pezzettini lì. Se ne trovassimo quattro sarebbe molto utile. via di TNT ok via di TNT vediamo un po' cosa troviamo. Dobbiamo solo stare attenti noi a non ucciderci e a finire nella lava praticamente. Miniamo il nostro neder ok attenzione qua attenzione lava ovunque lava ovunque. Allora con qualche acrobazia sono riuscito ad arrivare qua dove avevo spaccato con la TNT e infatti e infatti ecco qua guardate abbiamo trovato altri blocchi yes yes ne abbiamo quattro in tutto ok ok perfetto esattamente quello che volevo ragazzi vediamo se ce n'è ancora qua più avanti quindi sono abbastanza rari come potete notare ma la TNT ci aiuta tanto eh sì questo non l'avevo visto era qua sotto quindi tanto meglio tanto meglio abbiamo guadagnato un altro pezzo che era qua sotto e non l'avevo visto dove ho fatto prima sta roba qua per passare guardate quanto diavolo sono sceso e quanto diavolo ho scavato dobbiamo tornare a casa in fretta ok questo piccone ha distrutto tutto praticamente ok ci siamo qua c'è la fortezza non mi resta che fare il giro al contrario ed eccoci di nuova casa non vedo l'ora di andare a decorare questa stanza con i nuovi blocchi andiamo nel magazzino intanto mi sono liberato di tutta la netherrack per poter smeltare il materiale che abbiamo trovato e quindi andare a craftare la prima spada fatta con questa nederite allora mettiamo l'escent debris dentro la nostra fornace ok e a questo punto tra poco dovremmo ottenere un altro materiale da questi cinque pezzi vediamo un pochino dovrebbe arrivare tra poco ecco qua la nostra fornace funziona la nederite scrap ora se andiamo a prendere dell'oro e lo prendiamo qua quattro pezzi in tutto andiamo ad unirli insieme a questa scrap e otteniamo finalmente il nostro materiale preziosissimo il nederite ingot nel neder l'oro sarà un elemento o meglio un materiale molto importante perché i nuovi abitanti amano questo materiale quindi avremo la possibilità anche lì di andarlo a cercare fantastico finalmente l'oro ha una sua utilità adesso andiamo a farci una spada di diamanti quindi andiamo a prendere così facciamo la nostra spada di diamanti così vedete la spada di diamanti ha attacco 7 di damage se io ora vado a prendere questa spada e la unisco con il nederite ingot otteniamo la nederite sword con attacco 8 ragazzi e questa spada si può anche incantare e dunque ragazzi siamo giunti al termine di questo primo episodio esplorativo della 1.16 nei prossimi episodi andremo a vedere anche tutti i crafting possibili con i materiali che abbiamo recuperato oggi perché non vi ho fatto vedere per esempio le torce con il fuoco blu le lanterne tutti i tipi di legno lavorato e così via quindi abbiamo davvero un sacco di cose ancora da vedere di questa nuova versione di minecraft pertanto vi invito come sempre a lasciare un like e ovviamente ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati con i nuovi video che di questa serie ragazzi saranno da qui in poi molto interessanti a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio ciao a tutti